Presentazione ufficiale per la candidatura a sindaco di Mario Cavigioli, il candidato di Omenia Sul Serio che raggruppa le anime di Azione Italia Viva e delle Forze Civiche. Avete scelto di presentarvi in piazza con una novità importante, presentando di fatto la giunta. Noi sei mesi giusti, sei mesi fa, avevamo lanciato questa provocazione. Che i candidati sindaco costruiscano le loro giunte e le presentino prima del voto e le costruiscono attorno a un progetto. Noi l'abbiamo fatto sul serio, sei mesi dopo siamo qui con la giunta quasi tutta nominata e costruita intorno al progetto. Lanciamo un'altra provocazione oggi, chiunque governi abbia il coraggio e la forza di coinvolgere anche la minoranza. La giunta quindi sarà composta eventualmente come e come si può coinvolgere la minoranza? La giunta avrà Francesco Pesce, vice sindaco, assessore al bilancio e organizzazione, Andrea Viganò al territorio, Marco Tagliaferri allo sport e al turismo e Alessandra Cuoretti al sociale. La minoranza si può coinvolgere andando a puntare sulle persone di valore, essendo veramente disponibile a dargli una delega e lavorando su progetti. A proposito di progetti, quali sono quelli più significativi nel vostro programma? Ne abbiamo nove di importanti, ne scelgo tre. Omenia, Audor Arena, la nostra convinzione che Omenia possa svoltare se punta sull'audor turistico. Omenia Identità Creativa, che è una caratteristica di Omenia che si è già fatta valere nel tempo ma su cui noi vogliamo investire molto anche per portare aziende innovative a collocarsi su questo territorio. E poi la cura della comunità. Abbiamo una sensibilità sociale importante, non siamo gli unici, ma credo che siamo gli unici che vogliamo farne un grande piano strategico di medio termine. Che cosa vi differenzia rispetto agli altri? Siamo una squadra pronta, già adesso, coesa. Credo che siamo in grado di navigare per cinque anni e di costruire progetti di medio termine. Quali idee per il territorio e la gestione della città? Noi immaginiamo la città del futuro come un progetto e non come un sogno perché invece di roboanti e magari poco praticabili iniziative abbiamo un arcipelago di idee per fare degli interventi mirati che costruiscano veramente una città nuova. E per il verde abbiamo in mente di fare un progetto ampio per la sostituzione con plantumazioni nuove che abbiano anche dei costi di gestione più contenuti.